Taci, lì seduta al tuo posto non odo parole che dici umane, ma odo gasteme più amare che piove nel bus ove è inteso viaggiare. Ascolta, piove dal tettuccio spaccato, piove nell'autobus cassato, la navetta B che da Corso Trieste ti porta al teatro Piccini. Piove, piove sui nostri volti scazzati, sui miei vestimenti leggeri, sui freschi pensieri di prendere l'autobus col tempo che è brutto e restare poi asciutto. Una favola bella che ieri mi illuse, che oggi mi illude. Noi scherziamo, ma chi oggi ha viaggiato con la pioggia sulla navetta B ha riso ben poco, dato che a nulla è valso prendere l'autobus per evitare di bagnarsi, pioveva persino nel mezzo. Ma se Sparta piange Atene non ride, nelle postazioni aziendali il personale viaggiante lamenta gli stessi disagi avvertiti dai passeggeri umidici. In questi prefabbricati, dove i dipendenti aspettano l'arrivo dei mezzi presso i capolinea, piove e non c'è il bagno. Insomma, è scontato dire che l'Amtab fa acqua da tutte le parti?